Prendiamone un grappolo, prendiamone un grappolo e così ci spiega le qualità di questo tipo di uva. Che è un'uva di quale di ligno? Varietà arvino. Arvino nero. Tipico della zona, rientra nel disciplinare saluto. E quindi quest'anno avremo una buona raccolta, pensa che usciranno quanti, quanti anni devi. Ora le pesi qui sono un po' azzardare. Allora c'è da raccogliere l'uva in questa vigna e poi ci sposteremo nell'altra vigna, che è sempre lo stesso vigneto. Sì, ovviamente all'interno della superficie è un'ettra e venti. Sì, ovviamente all'interno della superficie è un'attività.